Noi registriamo una forte penura di personale, infermeristico, os, ostetrico, ma diciamo di tutte le figure. Però per alcune figure raggiungono livelli drammatici. Prosegue lo stato di agitazione dei sindacati Nursing, Nursing App e USB. Dal tavolo convocato dal prefetto Maddalena De Luca, a cui ha partecipato anche l'azienda sanitaria Toscana Sud-Est, non è uscito un accordo. Il tema in sanità è quello che ormai si trascina da anni, mancanza di personale, turni massacranti e livelli di assistenza, secondo le sigle sindacali, non adeguati. L'azienda si accontenta di questa tipologia di servizio che sta deteriorandosi nel tempo, vediamo sui pronto soccorsi, sui servizi, l'allungamento delle liste d'attese, per noi non è accettabile. La dottoressa Valeria ha accennato al fatto che anche il PNRR è una risorsa, è un'opportunità, perché ci sono degli investimenti importanti da parte dello Stato sulla ASRA. Il problema è che questa opportunità si sta trasformando per gli operatori e per l'utenza in maniera particolare in una sorta di calvario, perché ci sono stati degli spostamenti incontrollati per eseguire lavori finanziati dal PNRR in altre strutture che non sono assolutamente adeguate. Questa la posizione dell'azienda sanitaria all'uscita dal tavolo di confronto. Siamo pronti all'ascolto con tutte quante le organizzazioni sindacali e ci possono essere delle criticità come in tutte le famiglie, perché su 11.500 dipendenti 5.000 sono delle professioni sanitarie e tecniche. Abbiamo 500 persone in più rispetto al 2019. Anche il piano delle assunzioni con il dottor Franchi viene fatto annualmente e scorso semestralmente. Secondo noi quel piano delle assunzioni non ha ragione d'essere. È stato costruito in maniera sbagliata, senza un modello organizzativo vero, per cui i numeri di loro sono giusti, ma anche i numeri di nostri sono giusti. I loro sono sbagliati e i nostri sono sbagliati, ma semplicemente perché non esiste un modello organizzativo per il quale l'azienda ci dice mi serve questo personale e quest'altro personale. Quello che noi registriamo in questo momento è sicuramente una sofferenza all'interno dei reparti importante. Abbiamo una generalizzata riduzione degli schemi di servizio che a nostro avviso mette anche in pericolo la qualità e l'efficienza delle cure.